La testimonianza degli atleti disabili è un grande segno di speranza, la prova che in ogni persona ci sono potenzialità che non immaginiamo e un messaggio di incoraggiamento per chi vive in situazioni di disabilità. Lo ha detto Papa Francesco incontrando in Aula Polo VI 7000 tra atleti e dirigenti del Comitato Italiano Paralimpico. Il vostro impegno sportivo, ha aggiunto, è un invito ad impegnare tutte le energie per fare cose belle insieme, superando le barriere che possiamo incontrare intorno a noi e prima di tutto quelle che ci sono dentro di noi. La vostra testimonianza, cari atleti, è un grande segno di speranza, è una prova del fatto che in ogni persona ci sono potenzialità che a volte non immaginiamo e che possono svilupparsi con la fiducia e la solidarietà. Dio Padre è il primo a sapere questo, ma Dio conosce perfettamente i vostri cuori. Sa tutto, è il primo a sapere questo. Lui ci conosce meglio di chiunque altro e ci guarda con fiducia, ci ama come siamo, ma ci fa crescere secondo quello che possiamo diventare. Così nel vostro sforzo, per uno sport senza barriere, per un mondo senza esclusi, non siete mai soli. Dio, nostro Padre, è con voi. Lo sport, ha ricordato ancora Papa Francesco, che al termine ha voluto salutare personalmente alcuni atleti, diventa un'occasione preziosa per riconoscersi come fratelli e sorelle in cammino, per favorire la cultura dell'inclusione e respingere la cultura dello scarto. Grazie. 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 Grazie.